Boys, bentornati sul canale Oggi boys, come avete visto dal titolo, andiamo a vedere i Goblin Ma prima di tutto, come sempre, iscrivetevi al canale e lasciate un like per il supporto Cioè minimo per forza, cioè tipo obbligatorio E andatemi a seguire su Instagram, cazzo, mi trovate come Bastardo7 Fatelo ragazzi, fatelo Allora, i Goblin sono un nuovo archetipo uscito su Phantom Nightmare Che attualmente, devo dirvi, mi piacciono Ovviamente nel meta attuale fanno poco e niente Però sono molto simpatici Perché a parte che sono un rango 3 Quindi stacco pezzo millo 3, i Fields sono un po' quelli Però io credo che sia un mazzo che poi nel tempo, nel futuro, verrà sicuramente supportato E sicuramente salirà di tier Oggi vi faccio vedere una Deck Profile e poi la Wombo Combo che possiamo fare con il mazzo Let's go! Boys, stiamo sul simulatore perché le carte ancora non ce l'ho in versione cartacea Però volevo portarvi il mazzo e quindi utilizziamo il simulatore Allora, come vedete, è di base un 3-axis È letteralmente il nuovo 3-axis E in futuro porterò anche altre versioni Oggi vi faccio vedere, diciamo, la versione un po' più standard Un po' più consistente del momento Allora, partiamo con il 3-Pair di Doug Charger Se questa carta è nella mano possiamo staccare un materiale da un mostro sul campo Quindi anche dell'Oppo E se lo facciamo evochiamo specialmente questa carta Se viene evocata normal o special possiamo aggiungere un Goblin Biker Spell Trap Dal deck alla mano Poi abbiamo il Goblin Biker Boom Hack Una volta per catena durante la main Se questa carta è nella mano o nel cimitero Effetto rapido Stacchiamo un materiale Xyz da qualsiasi mostro sul campo E se lo facciamo evochiamo specialmente questa carta Passiamo poi a Cluttersplod Pazzo sgravato Se questa carta viene evocata normal o special Possiamo targettare un Goblin nel nostro cimitero ed evocarlo specialmente Durante la main phase del nostro avversario Se questa carta è nel cimitero Possiamo staccare un materiale da qualsiasi mostro sul campo Ed evocare specialmente questa carta Ma la dobbiamo bandire se va a lasciare il terreno Ovviamente questo è il classico effetto stupido Perché ci facciamo Xyz e quindi non lascerà il terreno Perché vi ricordo che un mostro Mentre sta come materiale Xyz Non sta sul terreno Sta nel limbo Ultimo Goblin Andiamo a vedere il Merciless Che è il Goblin Acqua Poi se per caso ho sbagliato la pronuncia Sticazzi Se questa carta viene evocata normal o special Possiamo evocare specialmente un Goblin dalla mano Durante la main phase Se questa carta è nel nostro cimitero Possiamo staccare un materiale da qualsiasi mostro Xyz sul campo Ed evocarla specialmente Ma dobbiamo bandirla quando va a lasciare il terreno Blablabla Poi ovviamente c'è la mia ragazza La guidatura Tre copie Vi devo spiegar l'effetto? No, non penso Due copie del mio sex toy preferito Ovvero Terror Top Finalmente l'hanno messo a due Speriamo che un giorno lo mettano a tre E ovviamente Teke Tomberg Questo qua ovviamente lo dobbiamo aggiungere di lui Ma ce l'abbiamo quasi sempre in mano Due copie del Brandiruota E due copie del Segugio Psichico Questi sono i nostri extender Una copia di Tsuchinoko E una copia di Nyan Nyan Ovviamente queste carte sono letteralmente i nostri extender Due per di Ghostbell Perché comunque dobbiamo giocarla Tre per di Ash E Droll E Impermanence Ok queste sono le Entrap Ghostbell Ash Droll E Impermanence Due Ghostbell Perché tre sono un po' pesanti Insieme Ash Alla fine può essere che dopo vi trovate due Ash E due Ghostbell in mano Ci fate poco e niente Tre per del Goblin Biker Grand Entrains Questa carta è molto forte Perché la aggiungiamo di combo Praticamente ci permette di prendere Un Goblin dal deck alla mano E poi possiamo applicare il suo effetto Stacchiamo un materiale ed evochiamo specialmente Un livello 4 inferiore Goblin dalla mano Possiamo bandirla dal cimitero Staccare un materiale su un mostro nel campo E aggiungere un Goblin dal cimitero alla mano Molto forte Monocopia Della Goblin Biker Grand Bash Cioè Regà Io sto mazzo ve lo sto a portare solamente perché Hanno fatto sta carta Cioè sta carta Cioè c'è il mio nome in questa carta Ok Il Goblin Biker Grand Bash Per questo vi ho detto che tra poco Forse un giorno Forse un giorno mi rivedete Con un mazzo Un po' spicy Non voglio Spoilerare nulla Chi mi segue da un sacco di tempo sul canale Ha già capito Però comunque Ci sta la carta col mio nome Dobbiamo giocarla per forza I mostri Goblin che controlliamo Guadagnano 300 attacco Per ogni Goblin che controlliamo Cioè Scimmie forti insieme Durante la main phase Possiamo evocare normalmente un Goblin In addizione alla nostra evocazione normale Possiamo targettare due mostri Goblin che controlliamo E attivare uno di questi effetti Facciamo diventare il livello di uno dell'altro Oppure Entrambi i livelli diventano i livelli combinati Quindi se abbiamo due Goblin di livello 3 Diventano due Goblin di livello 6 Passiamo alla trappolina Una copia del Goblin Biker Grand Stampede Fortissimo Durante la main phase Possiamo immediatamente Dopo che questo effetto è risolto Evocare Xyz un mostro Utilizzando solamente i Goblin come materiale Se controlliamo un mostro Xyz Goblin Possiamo targettare un mostro con effetto sul campo Staccare un materiale Da qualsiasi mostro sul campo E se lo facciamo Annulliamo l'effetto del mostro Fino a fine turno 3x di teleport Furtissimo Una copia di rota Una copia di richiamato dalla tromba E poi E poi E poi Una copia di full armor Red Xyz Perché andiamo a sfruttare Quei tre mostri Usciti su Agov Furtissimi Passiamo all'extra deck Due copie Del Big Gabonga Mi ci chiamavano così una volta Se questa carta è una vocata Xyz Possiamo aggiungere un mostro Goblin dal deck alla mano Fondamentalmente colui andiamo sempre a prendere lui Se un materiale è staccato da un mostro sul campo Possiamo targettare un mostro sul campo Accetto questa carta E attaccare questa carta come materiale a quel mostro Durante l'end possiamo attaccare un Goblin dal deck a questa carta Una copia del Goblins Crezi Beast La bestia pazza sgravata Cioè letteralmente questo è il mio mazzo Cioè abbiamo la bestia pazza sgravata E la magia che si chiama Bash Cioè fortissimo Una volta per turno Effetto rapido Possiamo targettare una magia trappola sul campo Staccare due materiali da qualsiasi mostro E se lo facciamo Attacchiamo quel bersaglio a questa carta Se uno o più mostri stanno per essere distrutti Dall'effetto di una carta Possiamo invece staccare un materiale da questa carta Se questa carta è nel cimitero La possiamo evocare specialmente E attaccare un mostro Goblin dal cimitero a questa carta come materiale Possiamo usare questo effetto una sola volta per duello Regà non so se mi sono spiegato Ma questa carta è fortissima Perché si autoreborna senza costo Non mi sembra che ci sia un'altra carta Su tutto Yu-Gi-Oh che si autoreborna senza costo Perché questo non è un costo Cioè nel senso Se sta nel cimitero si evoca specialmente Poi possiamo attaccare un mostro Goblin Letteralmente questa carta si autoreborna senza costo Questa cosa probabilmente in futuro verrà abusata Zeus Perché ovviamente tanto ormai non costa più niente Carinello ha fatto la fine del barone Una copia di Armor Torpedo Armor Fortress E l'Armor Red Dark Knight Lancer Pazzo sgravato Stacchiamo materiali Peschiamo una carta Stacchiamo materiali Tutoriamo la trappolina Lui guadagna 300 attacco Per ogni materiale e carta magica equipaggiamento equipaggiata E una volta per turno Possiamo targettare una carta Xyz nel cimitero E rimischiarla nell'extra deck fondamentalmente La cosa forte di questa carta è che se una carta equipaggiamento si equipaggia un mostro Possiamo attaccare un mostro del nostro avversario a questa carta come materiale La cosa bella è che noi nel turno dell'hop utilizziamo questa per fare un Xyz qualsiasi nostro E poi dal cimitero la andiamo a bandire ed equipaggiamo lui con uno dei nostri Xyz che è rimasto nel cimitero Facendo così andiamo praticamente a triggerare il suo effetto E lui andrà a fare un'interruzione gaiarda perché non distrugge, non spacca Ma si appiccica come materiale un mostro dell'hop Ovviamente numero 75 Ashura King Madonna Non ho visto quanto costa questa carta adesso Ma io l'ho presa quando era uscita Ve l'avevo detto compratela che questa prima o poi verrà giocata Costava tipo un euro Non so quanto costi adesso La maga pasticciona Il numero 3 Ercicalone Numero 49 L'uccellino che non viene distrutto in battaglia Serve per fare Zeus E poi Link Mascherena Fenice E Unicorno Ovviamente se volete buttarci soldi ci mettete letteralmente SP Cioè ormai questa cosa sta diventando praticamente uno slogan nel canale mio Passiamo alla side La side è simile a tutte quelle che faccio 3 Summon Limit 3 Cosmic Ci sono 3 Pancra Topo Non ci ho fatto caso Scusate Togliamo subito Pancra Topo E mettiamo magari un altro talent Quindi 2 Pancra Topo 3 Corvi DD 2 Soul Release E 2 Talent C'è un altro talent Molto bene Allora adesso vi faccio vedere la combo Che si fa con Speedroid Ma si può fare anche con la guida tour Fondamentalmente basta che partiamo con due mostri di livello 3 Andiamo a specialare il mio sex toy preferito Che ci va a prendere Techetomburg Insomma è come cazzo si chiama Lo specialiamo e andiamo a fare il Goblino Il Goblino ci va a prendere ovviamente lo Starter Questo è molto figo perché stacca materiale si speciala Però noi prima di tutto dobbiamo fare l'Armor Fortress Perché lui ci va a prendere la trappolina Trappolina fortissima Sta carta è comune È veramente forte Quindi stacchiamo i materiali Prendiamo lui Stacchiamo un altro materiale Ed evochiamo il Goblino Attiviamo l'effetto E andiamo a prendere la Grand Entrance Attiviamo l'effetto La grande entrata dei Goblin motociclisti pazzi Che ci va a prendere quest'altro Goblino Questo è molto forte come Goblino Perché ovviamente se viene evocato Ci risuscita un Goblino Ed è molto forte come cosa Andiamo a risuscitare Big Gabonga Perché in End andiamo ad appiccicare un materiale E poi andiamo a fare Torpedo Torpedo ci pescherà una carta staccando due materiali Io purtroppo pesco un altro Goblino Perché questo è il tutorial Dopodiché facciamo Overlay Su Armor Fortress con questo Perché questo si mette sopra letteralmente a casaccio Attiviamo l'effetto Della Grand Entrance Che ci permette di staccare un materiale E riprendere in mano un Goblino Ovviamente andiamo a prendere lui Perché vi ricordo che siamo partiti di special Facciamo la Normal e entriamo in Mascherena Dopodiché andiamo a settare la trappolina E facciamo l'effetto del Full Armored Ovvero ci ricicla un Xyz In questo caso Fortress Allora di base questa qua è la board La cosa divertente è che adesso in End Noi andiamo ad appiccicare al Goblino Quell'altro Goblino che si evoca dal cimitero Durante il turno dell'Oppo Questo qua Quindi nel turno dell'Oppo noi riusciamo ad evocare due Goblini Di livello 3 E utilizziamo in sostanza la trappolina Con i due Goblini Per andare a fare qualcosa Tipo che ne so Possiamo fare il numero 75 O il Cicalone E poi ovviamente possiamo utilizzarli insieme a Mascherena Per fare Unicorno O qualsiasi altra cosa che volete La cosa bella è che una volta che abbiamo utilizzato questa Questa dal cimitero Ci andrà ad equipaggiare Torpedo a lui Facendoci praticamente triggerare l'effetto E lui diventa un'altra interruzione Perché va a rubare un mostro dell'avversario E se lo appiccica Molto forte Vi faccio vedere Stavo contro il botta alla nera sempre Attiviamo l'effetto del Goblino Si evoca Attiviamo l'effetto che praticamente ci resta il Goblino E a questo punto Con il suo effetto Andiamo a prendere una carta magia Che comunque ci fa sempre comodo per ripartire dopo Andiamo a prendere entrata Qui lui stava entrando in battle Vado a fare Mascherena Attivo Full Armored Ovviamente sto contro il bot solamente per farvi vedere Vado a fare il numero 75 perché non si sa mai Con Mascherena vado a fare Unicorno Scarto una carta Gli rimischio quello E let's go In alternativa comunque si poteva fare sempre l'effetto della trappolina Si equipaggiava lui con quell'altro E andiamo a rubare un altro mostro Let's go schi Molto bene boys Spero che questo video vi sia piaciuto Fatemi sapere che cosa ne pensate voi Di questo archetipo Secondo me è molto interessante Vabbè ovviamente Ha bisogno del suo tempo È appena uscito Quindi è ancora giovane Deve fare ancora un po' di esperienza Però secondo me questo qua in futuro In futuro E detto questo Noi si beccamo Al prossimo video Let's go Ciao Oh, oh.